Grazie a tutti. Un ingiovane di 28 anni di Nocera Superiore ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale che si è verificato sulla A30 a Caserta Salerno e che ha visto coinvolti un'autovettura ed un'autoambulanza, un morto e due feriti e il bilancio dell'impatto fatale per circa tre ore è rimasta chiusa al traffico l'entrata di Castel San Giorgio in entrambe le direzioni. Il primo servizio di oggi. Grazie. Le cose dell'incidente sono al vaglio degli inquirenti, la polizia stradale e il personale della direzione Sesto Tronco di Cassino visioneranno accuratamente le immagini delle telecamere presenti sul tratto autostradale per capire l'esatta dinamica del sinistro. Il tratto dell'autostrada è rimasto chiuso per varie ore in entrambe le direzioni di accesso e uscita da Castel San Giorgio. Il destino ci ha messo lo zampino perché Alberto sarebbe stato un futuro medico ed ha perso la vita impattando proprio contro un veicolo di soccorso o un'ambulanza. E proprio i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Alberto lì sul posto. Un giovane tranquillo, studioso, meticoloso con due genitori straordinari, papà insegnante, mamma infermiera, reparto TIN dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Si tratta dell'ennesima morte su strada in provincia di Salerno. All'indomani dell'altro, impatto fatale ad Olevano sul Tusciano, dove ha perso la vita la giovane 35enne Maria Rosaria Conte. Un episodio doloroso per l'intera comunità che impone riflessioni serie sul tema della sicurezza stradale. Il sindaco di Nocera Superiore, Giovanni Maria Cuofono, a nome dell'amministrazione comunale di tutti i cittadini, ha espresso il suo cordoio unendosi al dolore che ha colpito la famiglia dell'aglio esposito. E voltiamo pagina. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Mercato San Severino hanno effettuato un'operazione che ha portato all'arresto di un 38enne originario di Baronissima, domiciliato nella frazione di Gaiano di Fisciano. L'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È stato fermato durante un normale servizio di controllo del territorio. In compagnia di altre persone viaggiava a bordo di un veicolo di piccola cilindrata quando è stato fermato a Fisciano ad un posto di blocco effettuato proprio dai militari dell'aliquota radiomobile. Durante la perquisizione personale i carabinieri hanno trovato in possesso dell'uomo alcuni grammi di hashish, successivamente sono state effettuate delle ricerche estese anche all'abitazione del 38enne, dove sono stati trovati ulteriori 250 grammi di hashish e 6 grammi di marijuana unitamente al materiale dedito al confezionamento della droga, un bilancino di precisione, un piccolo coltellino utilizzato per il taglio della droga. L'arrestato è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria di Nocera Inferiore ed è stato poi giudicato con il rito direttissimo. L'operazione dei carabinieri ha permesso di sequestrare droga e di bloccare l'attività di spaccio del 38enne. Con l'inizio di quella che per definizione è la stagione della rinascita e della riscoperta della gioia di vivere, soprattutto quanto c'è all'esterno e all'aperto, sono tornate le giornate della primavera FAI. Tanti siti aperti al pubblico, oggi e domani, location d'eccezione nella città di Salerno, il palazzo della prefettura in piazza Mendola, con l'alloggio del massimo rappresentante di governo e della parte riservata al Presidente della Repubblica, visitabili per il pubblico. Sentiamo. L'alloggio del Presidente della Repubblica è il sacrario dedicato alla memoria dei cittadini caduti durante la guerra. Sono i due siti speciali del palazzo della prefettura di Salerno, aperti questa mattina al pubblico per le giornate FAI di primavera. Un'occasione speciale per vedere il salone di rappresentanza dell'alloggio del prefetto di Salerno, Francesco Russo, ma anche l'appartamento del Presidente della Repubblica, quello dove hanno soggiornato tra gli altri presidenti emeriti come Ciampi e Napolitano in occasione delle loro visite a Salerno. Un piano del palazzo della prefettura riservato che oggi e domani spalanca le porte ai cittadini per vedere da vicino cose mai viste, le bellezze delle stanze di rappresentanza, dove spiccano dipinti porcellane e mobili d'epoca. Ad accoglierci questa mattina nel palazzo della prefettura di Salerno per mostrare la camera tradizionalmente riservata al Presidente della Repubblica e le stanze dove negli anni si sono svolti incontri istituzionali di spessore, è stato il massimo rappresentante di governo, Francesco Russo, che non ha mancato di sottolineare l'importanza delle giornate FAI che permettono non solo di mostrare tanta bellezza, ma anche di dare un segnale di vicinanza dello Stato ai cittadini. Sì, noi siamo orgogliosi e onorati di questa cosa, la possibilità di far vedere a tanti cittadini di Salerno, della provincia, ma credo anche da fuori, nel 2019 ci fu un successo enorme, di far vedere queste sale molto belle del nostro palazzo. So che stamattina ci sono anche altri palazzi aperti, quindi è una bella opportunità offerta dalla meritoria e importante attività che svolge il FAI in tutta Italia, appunto di tutela poi alla fine del patrimonio, questa è una tutela perché la possibilità anche di poter consentire questo è promozione soprattutto. Una giornata importante, presi dalla modernità a vedere tanta bellezza in questi luoghi è sicuramente un po' una coccola per gli occhi e per il cuore. Bene, bene, Salerno si sta dedicando alla bellezza, c'è un importante convegno a Ravello in questi giorni proprio sulla bellezza. Ed è una cosa che questa città, diciamo, deve curare sempre con grande attenzione. La bellezza sta diventando, diciamo, come dire, una delle forme di interpretazione della realtà e ne abbiamo tanto bisogno, ecco, della bellezza, che poi bellezza si conigua con comportamenti corretti, con il rispetto degli altri, con una buona socialità in generale. Ci fa piacere di poter essere, diciamo, come dire, con partecipi, protagonisti di questo modo di ragionare, di portare avanti la nostra vita sociale. Aprire le porte del palazzo più importante della città di Salerno, il palazzo di governo, dove il Presidente della Repubblica trova accoglienza, qualora dovesse trovarsi in questa città o nella provincia, l'occasione è anche per aprire le porte ai cittadini una vicinanza con le istituzioni? Sicuramente, è un impegno che noi cerchiamo quotidianamente di portare avanti, perché i cittadini devono sentire vicini alle istituzioni, le istituzioni si devono sentire responsabili di questa vicinanza dei cittadini, perché soltanto in questo modo. Il nostro mondo è così complesso, è così articolato, per cui solo le istituzioni o solo i cittadini non vanno da nessuna parte. Bisogna lavorare insieme, dare delle buone risposte. E sì, l'apertura di questi luoghi, che normalmente neanch'io frequenti, pure se sono vicini all'appartamento in cui vivo, perché sono luoghi un po' riservati, in particolare l'appartamento del Presidente della Repubblica, che è molto bello, anche se è piccolino, chiaramente serve soltanto nelle occasioni di presenza qui del Presidente. Insomma, è una bella occasione, è una chicca un po' per tutti. Una due giorni importante, quella promossa dal Fondo per l'Ambiente Italiano, luoghi di grande interesse, come quelli della Prefettura di Salerno, che come dicevamo oggi, in occasione delle giornate FAI di primavera, possono essere scoperti dai cittadini. Una bella occasione, quella promossa dalla Delegazione FAI di Salerno, guidata da Michelangelo De Feo. Sentiamo. Le bellezze delle stanze del Palazzo di Governo a Salerno, sono riservate al Presidente della Repubblica, un vero e proprio alloggio prestigioso, un salone, una camera da letto in preziosità dall'arte. È un bel colpo d'occhio quello a cui si assiste, varcando la soglia dei piani alti del Palazzo di Governo di Piazza Mendola, dove sono esposti anche alcuni dipinti dell'artista salernitano Mario Avallone. Sale degne di attenzione e di grande eleganza, e di cui molti ignorano totalmente l'esistenza. Mobili d'epoca, pavimenti di pregiata fattura, dove spicca una tavola imbandita, con posaterie in argento, e piatti presidenziali in porcellana. Luoghi di grande interesse, quelli della Prefettura di Salerno, che oggi, in occasione delle giornate FAI di primavera, ha permesso a tanti anche di visitare il sacrario dedicato alla memoria dei cittadini caduti durante le campagne di guerra, decorati di medaglia d'oro al valor militare. Una bella occasione, quella promossa dalle giornate FAI di primavera, dalla delegazione FAI di Salerno, guidata da Michelangelo De Leo, per addentrarsi anche nella storia dei nostri caduti, raccontata dagli allievi del liceo classico perito Levi di Eboli, insieme ai volontari dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato. L'occasione delle giornate FAI di primavera, oggi, sabato 25 e domani, domenica 26, è possibile, tra l'altro, visitare anche il Palazzo della Prefettura, dove il pubblico visiterà in maniera esclusiva il cosiddetto alloggio del Presidente della Repubblica. Ci troviamo qui adesso nello studio dell'alloggio, in questo luogo è stato ospitato come Presidente Ciampi e il Presidente anche Napolitano. Vorrei ricordare anche le altre aperture, ovviamente a Salerno ci sono, nell'ambito della campagna degli ex conventi, abbiamo Palazzo Sant'Agostino, sede della provincia, la Fondazione Ebris, ex convento San Nicola della Palma, la Fondazione Cari Sal, ex convento di San Michele, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, ex convento San Giorgio, poi la nostra sede con una nostra fotografica di Corradino Pellecchia e Francesco Siano, Ravello con Villa La Rondinaia, Vallo della Lucania con Palazzo Mainenti, sede del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Entrare in questo alloggio e vedere tanta bellezza, ci sono affreschi del 1800, ci sono mobili antichi, un pavimento di marmo di tutto rispetto. Sì, è un ambiente tipico dell'epoca in cui è stato edificato il Palazzo della Prefettura, si parla dell'inizio 900, ripeto, sono ambienti chiusi, quindi eccezionalmente si visitano in giornate fa di primavera, è possibile prenotare, anzi invito il pubblico a prenotare soprattutto per la Rondinaia, Arravello, per la Fondazione Ebris e il Palazzo della Prefettura. In questo appartamento abbiamo quadri prevalentemente del XVIII secolo, in particolare abbiamo due quadri di Mario Avalone, che sono la Donna Sdraiata e la Veduta di Mare Cielo. Mario Avalone è nato a Salerno nel 1899 e dopo essersi trasferito a Venezia inizia a produrre una serie di opere che poi esporrà a Salerno nel 1929. La sua pittura non presenta contorni definiti, è molto fluida. Il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri invece questa mattina è stato in visita istituzionale a Palazzo di Città, ospite del sindaco della cittadina metelliana Vincenzo Servalli. Sentiamo. Il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, romano di nascita ma legato a Cava dei Tirreni per motivi familiari, questa mattina è stato in visita istituzionale a Palazzo di Città, ospite del sindaco Vincenzo Servalli. Ben chiamato a Roma il mio legame con Cava è antico perché la mia famiglia ha residuto qui a lungo e ho anche poi mantenuto una casa di famiglia così come avevo sempre immaginato di fare, e quindi vengo frequentemente e nell'ambito dei vari momenti di incontro il sindaco aveva proposto una visita, chiamiamola così, istituzionale anche se il termine è esagerato, ma un incontro perché ovviamente il comune di Cava dei Tirreni come tutti i comuni d'Italia ha vicende aperte, esigenze di dialogo con le istituzioni centrali e quindi mi sembra corretto essere a disposizione come soggetto istituzionale di ascolto e per vedere, già il sindaco mi ha illustrato alcune vicende storiche che il comune deve portare a compimento e se si potrà sensibilizzare l'amministrazione centrale nell'assolvimento dei propri doveri, nell'utilizzo delle normative e degli stanziamenti destinati a questo, ovviamente cercheremo di fare la nostra parte e quindi l'auspicio del sindaco è sicuramente condivisibile in termini istituzionali a delà delle appartenenze, poi le campagne elettorali ognuno le vive come ritiene, poi c'è la vita delle comunità, dei territori, delle strutture, delle infrastrutture che vanno alimentate in questo momento che da un lato è molto faticoso per gli enti locali perché la quadratura dei bilanci, l'inadeguatezza delle risorse è un dato nazionale di cui anche l'Anci si fa sempre carico nei confronti del Parlamento e che anche l'attuale governo deve esaminare nella richiesta complessiva che ammonta a diversi miliardi da parte dei comuni, poi c'è il PNRR che ha suscitato grandi speranze e aspettative, io giro molto l'Italia, quindi tutti hanno progetti, hanno possibilità di trovare in questi finanziamenti delle opportunità ma anche lì come vedete bisogna essere rapidi e adeguati e spesso anche il governo centrale dovrà aiutare le amministrazioni dei territori a cogliere questa occasione perché spesso anche, parlo non caso mai di Cava, ma di piccoli comuni non hanno neanche una struttura amministrativa che possa preparare progetti adeguati, quindi credo che c'è un momento di interrelazione tra strutture di governo centrali, opportunità europee e amministrazione dei territori molto importante per far sì che l'Italia utilizzi al meglio questa vicenda che è nata da una disgrazia, da tutta la vicenda del Covid, però poi come sempre accade, dalle disgrazie nascono delle opportunità e quindi i finanziamenti del PNRR lo sono e quindi siamo qua, abbiamo un po' discusso col sindaco poi di alcuni progetti specifici che riguardano Cava che poi insomma mi dettaglierà successivamente e che illustreremo alle amministrazioni nazionali di competenza. E restiamo a Cava dei Tirreni perché una frana di grosse dimensioni si è verificata poco dopo mezzogiorno in via Michele Morcaldi a pochi metri dall'abbazia benedettina della Santissima Trinità. Per fortuna al momento del distacco della frana non c'erano persone o autoveicoli in transito. immediatamente è scattato l'allarme e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno provveduto ad interdire il transito prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. Presenta sul posto anche gli assessori Germano Baldi e Nunzio Senatore. L'abbazia benedettina è ora praticamente isolata. Si temono tempi lunghi per la messa in sicurezza della scarpata tenendo conto anche dell'estensione del fronte franuso. E per questo weekend ha il presente nelle piazze italiane con le uova di Pasqua a sostegno della ricerca e dei pazienti. Fino a domani anche nel Salernitano si rinnova l'appuntamento con la solidarietà promosso dall'Associazione Italiana contro le leucemie, linfome e mieloma alla sezione Marco Tolimieri di Salerno al fianco dei pazienti ematologici e delle loro famiglie. Sentiamo. Ogni uovo custodisce un sogno, aiutaci a realizzarlo. E' questo l'invito con cui i volontari dell'AIL dell'Associazione Italiana contro le leucemie e linfoma richiamano alla solidarietà ai cittadini. In piazza anche a Salerno come nel resto della provincia per tre giorni fino a domani le uova di Pasqua a AIL. L'iniziativa posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica giunta alla sua trentesima edizione. Come da tradizione in diversi punti del Salernitano la sezione AIL Marco Tolimieri di Salerno da sempre al fianco dei pazienti ematologici e delle loro famiglie ha allestito un gazebo nel quale vengono distribuite ad un'offerta minima di 12 euro le uova di Pasqua dell'AIL. Il ricavato sosterrà la ricerca scientifica contro le tre forme di cancro, lecemia, linfome e mieloma. Nel gazebo della piazza di Pastena questa mattina la Presidente dell'AIL di Salerno, il Bira Tolimieri, con una sorpresa e un sogno speciale. Un momento importantissimo per l'associazione, sono 30 anni che siamo in piazza con le uova e io ringrazio tutti i volontari che oggi in tutta la provincia di Salerno si stanno dedicando a questa attività di volontariato. Per noi è importantissimo, l'uovo contiene il sogno, il sogno di non spezzare una vita. La malattia del sangue, le malattie del sangue non possono fermare la vita di tante persone, soprattutto di giovani. Una sorpresa speciale, un progetto speciale, quello che l'AIL porta avanti ormai da anni sul territorio, sia con l'ospedale di Pagani che con l'ospedale Ruggi di Salerno. Sì, noi ormai sono tanti anni, sono più di 25 anni che siamo sul territorio, sosteniamo le strutture, sosteniamo le strutture ematologiche, con borse di studio per la ricerca ma soprattutto per progetti per l'assistenza. I nostri pazienti non devono essere lasciati da soli e quindi abbiamo il servizio navetta che li accompagna in ospedale, abbiamo il servizio psicologico e tante attività che adesso con la primavera rinizieranno come la velaterapia e il fit walking. Ritirare un uovo di Pasqua e contribuire con la giusta causa significa aggiungere un piccolo pezzo ad un grande puzzle. Sì, è un grande puzzle fatto di tante belle persone, tante persone che si dedicano con il cuore e noi nel cuore abbiamo un grande sogno che è l'assistenza domiciliare o meglio il progetto di portare l'ospedale a casa, di continuità sostanziale. Ci sono tante persone che purtroppo non possono andare in ospedale per le cure ed è importantissimo che noi andiamo a casa. Noi come AIL siamo pronti, siamo pronti per finanziare questo grande progetto, abbiamo bisogno di una mano, delle istituzioni, di tutta la cittadinanza per fare in modo che si possa attuare. Teggiano incontra il prefetto Francesco Messina e questo è il tema dell'iniziativa che si è tenuta questa mattina a Teggiano, un'opportunità per affrontare le tematiche territoriali e comprensoriali relative alle insorgenze criminali che ha portato il prefetto Messina ad un incontro con i sindaci del Vallo di Diano. Sentiamo. La legalità nelle scuole, insegnare la legalità nelle scuole attraverso proprio le forze dell'ordine, qual è il ruolo e soprattutto quale potrebbe essere però un messaggio che va lanciato ai ragazzi? Guardi io credo che questo sia una come dire una funzione fondamentale soprattutto perché abbiamo a che fare con un'agenzia sociale primaria, la scuola, che nell'ultimo periodo anche in relazione agli effetti della pandemia, del post pandemico ha avuto qualche difficoltà a svolgere la propria attività. I giovani particolarmente sottoposti agli effetti negativi della pandemia sono stati per un certo periodo di tempo isolati quindi il tema più importante in questo momento è riattivare un link con i giovani. Noi lavoriamo molto, io in particolare lo faccio spesso, lavoriamo molto su questa possibilità di instaurare un rapporto comunicativo perché quello che oggi colpisce di più, si sente spesso parlare di baby gang e di violenza giovanile, quello che colpisce di più è che si tratta in sostanza di situazioni di devianza di questi minori che sono stati appunto compressi e sono stati messi in condizione di non poter esercitare solo una funzione primaria che è quella sociale. Parlare con questi ragazzi, ripartire con una comunicazione che manca ci può servire a trasmettere loro quello che noi definiamo cultura della legalità, cioè noi dobbiamo spiegare a questi ragazzi che esistono delle regole e che queste regole vanno rispettate. Nell'intervento che io ho fatto poc'anzi ho parlato, ho tirato dentro la questione del Tribunale, questo significa che ho le idee chiare di quello che ho detto perché io ritengo da quando è stato soppresso il Tribunale a Sala Consilina noi siamo stati colonizzati, ma perché dico questo? Sarà forte quello che dico, noi come Vallo di Viano siamo la cerniera a cavallo di tre regioni, ho detto là dentro nell'intervento ho parlato di fanellino di coda, ma il fanellino di coda a chi io mi riferisco non come, nel senso che l'istituzione a livello centrale devono prendere in considerazione che siamo ai convini con tre regioni, dove ci sono associazioni mafiose, c'è l'Andranghete, c'è la Corona Unita, c'è la Camorra, c'è tutto. Ora il nostro territorio che è un territorio vastissimo abbassando questa guardia significa che noi veniamo colonizzati, allora questo che significa? Quando va via un Tribunale va via anche le forze dell'ordine, non sono tutte le forze dell'ordine presenti per quello che realmente il territorio chiede come sorveglianza, tant'è che ho tirato dentro la questione ambientale, ho tirato dentro la casa circondariale, ho tirato dentro il Tribunale, ma questo per fare un appello, per far capire, è vero che la Costituzione italiana, anzi tutti quanti la dobbiamo rispettare, su questo non c'è un problema di dubbio, però chi ergifera a livello centrale secondo me i territori non li conosce bene. Lei si sente più tranquillo dalle parole del prefetto del questore oppure ritiene che non è stato ben valutato il problema che lei ha sottoposto? Ma io capisco anche le parole del signor prefetto che ha detto e capisco i ruoli, ma il problema noi l'abbiamo vissuto e la stiamo vivendo, basta pensare qualche mese fa abbiamo vissuto un momento di scippe ed altro, la gente c'era la pandemia in giro, altro che Covid-19 e c'era la vera pandemia, perché insomma nella propria abitazione. Questo significa che nemmeno si poteva chiedere uno sforzo maggiore alle forze dell'ordine perché il personale è quello che è, insomma è ridotto, quindi tutto questo porta immoverimento su un territorio e sicurezza. Ed ora è il momento di dare uno sguardo alla nostra rubrica, alla pagina degli appuntamenti. Al Cinemateatro San Demetrio di Via Dalmazzi a Salerno, quest'oggi in programma è il film L'ultima notte di amore con Pierfrancesco Fabino. Tre gli spettacoli alle ore 17, alle 19.30 e alle 22, ingresso intero 7 euro, ridotto 5 euro. Il giovedì non festivo, ingresso unico 5 euro. Per informazioni 089 22 04 89 www.cineteatrosanemetrio.it Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. E tra poco parleremo di sport, la salunitana si è allenata anche questa mattina, ma lo facciamo tra pochissimo, non prima di aver visto anche cosa ci riservano le previsioni del tempo per domani. A tra poco. In collaborazione con In collaborazione con Ristorante Eureka. I sapori del mare. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, parzialmente nuvoloso, con schierite prevalenti. In montagna, schierite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni o velati. Previsioni del tempo. Fornite da 3B Meteo. E ci occupiamo ora di calcio. La salunitana ha sostenuto anche questa mattina una seduta di allenamento al Mary Rosi, dove anche Paolo Sosa ha un suo nuovo ufficio, vista campo. Non si tratta di una novità assoluta, dal momento che ve ne erano già altri due simili. Intanto, ieri, tra i vari calciatori impegnati con le nazionali, si è distinto Diacchia, segnato col suo Senegal. Sentiamo. E sono tre. Al Mary Rosi, adiacente all'uno dei campi di allenamento, ora anche Paolo Sosa ha un ufficio con tanto di vetrate, da cui può sempre guardare verso il campo, mentre lavora con il suo staff o è impegnato in qualche videocall. Il tenner portoghese trascorre moltissimo tempo presso il centro sportivo a cui la proprietà Granata ha destinato ingenti risorse per apportare ulteriori migliorie e su input del DS De Santis, gli è stato destinato un ufficio nuovo di Zecca, simile a due già esistenti. Il primo era sorto lo scorso anno per volere di Walter Sabatini, da cui l'ha ereditato l'attuale DS Granata, che ha poi chiesto ed ottenuto che ne sorgisse un altro destinato alla squadra scouting. De Santis e i suoi collaboratori passano a loro volta molto tempo al centro sportivo, preferendo lavorare sul campo più che nella sede di scavate case rosse, che presto verrà dismessa per essere trasferita alla Rechi. E così è sembrato logico e naturale che anche Paolo Sosa e il suo staff potessero avere un ufficio tutto loro. La richiesta del direttore sportivo è stata subito esaudita ed il tecnico Lusitano si è visto confezionare un gradito regalo che è stato molto apprezzato e che sottolinea e conferma la sintonia tra lui e l'area tecnica che fa capo a Morgan De Santis, che domani festeggerà i suoi 46 anni. Il tecnico e il direttore sportivo hanno un feeling consolidato in una visione comune che viene condivisa anche dalla proprietà e dalla dirigenza che fa capo all'amministratore delegato Maurizio Milan. Lavorare tante ore al giorno per la serenitana così deve riuscire a colmare il gap che separa il club Granata da quelli che hanno alle spalle più anni di Serie A. Possono far leva su stadi di proprietà e su centri sportivi propri. Le strutture sono una tematica molto sentita e su questo la città vuole accelerare, ma deve anche fare i conti con la burocrazia. Poi c'è la parte tecnico-sportiva. La scorsa estate la serenitana è riuscita a portare Ingrata a Bulai e Dia con un modico investimento per il prestito, un milione di euro, ed un diritto di riscatto a 12 che ora potrebbe essere motivo di rimpianto per il Villareal. Il senegalese è arrivato in doppia cifra in Serie A, ha fatto gol agli scorsi mondiali ed anche ieri è andato a segno con la sua nazionale nella gara col Mozambico in cui la quinta rete è stata realizzata da Diallo, uno degli altri attaccanti cercati la scorsa estate da Morgan De Santis, rimasto poi allo Strasburgo. Dia sarà il grande investimento di Erbolino il prossimo giugno. Il patrono lo riscatterà per 12 milioni, la cifra concordata col Villareal, e poi si vedrà il da farsi, sull'attaccante ci sono già diverse squadre e nel finale di stagione la sua votazione potrebbe ulteriormente lievitare. Non ha giocato, ma ha comunque incassato la prima convocazione nazionale maggiore, l'ostrico Daniluk pagato 5 milioni nello scorso agosto e seguito da club europei di un certo livello. La plusvalenza anche nel suo caso potrebbe essere cospicua dall'ufficio Almeri Rosi per ciascuno dei comparti dell'area sportiva, le idee per il futuro passando per il lavoro sul campo. Oggi la squadra ha sostenuto una sgambatura in famiglia a ranghi ridotti per forza di cose. Dalla metà della prossima settimana torneranno a disposizioni nazionali e Sosa si concentrerà sulla partita del 2 aprile alla Spezia, uno degli snodi decisivi per imboccare una via meno tortuosa per la salvezza. E si parla spesso del rapporto tra calcio, tifo e passione. Gli ultimi episodi rendano tremendamente attuali queste tematiche che meritano di riflessioni ampie e precise. Se ne discuterà a Salerno nel secondo evento di Tango, storie di calcio e passione, appuntamento lunedì 27 marzo alle 18.30 al complesso San Michele in via Bastioni a Salerno con Pierluigi Spagnolo, autore dei libri I ribelli degli stadi e contro il calcio moderno. L'incontro sarà moderato da Ciro Romano dalle 17.30, sarà visitabile anche la mostra curata dall'Associazione 19 giugno 1919 sul tema i colori del tifo. E ci occupiamo ora di basket perché domani ci sarà un'importante gara interna per la Virtus Arecchi Salerno nel campionato di Serie B. I ragazzi di coach Ponticello ospitano Pozzuoli in un derby che vale tanto per la classifica. E per la quarta giornata del Girone Oro del campionato di C-Gold, la Power Basket è attesa da un altro impegno interno dopo aver superato Mondragone nello scorso fine settimana. La squadra cara al presidente Luca Renis tornerà a giocare alla Pala Silvestri. L'avversario sarà Mondo Camerette One Team Basket Caserta, palla 2 alle 18.30 nella prima domenica del 2023 con ora legale. E proprio con quest'ultima notizia mi fermo qui, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Ricordate di spostare le lancette di un'ora stanotte, quindi si passa all'ora legale. Non mi resta che ringraziarvi per averci preferito. Arrivederci. Grazie. 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 questo programma? Visita il nostro sito tvogisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.